Buonasera a tutti ben ritrovati nel canale. Oggi affrontiamo un altro contenuto di elettronica così alterniamo un po' i video di pesca. Facciamo un'integrazione a un video che abbiamo già fatto sulla cartografia. Una delle domande che mi fate in maniera frequente è come trovo le secche, gli spot di pesca, cioè come posso studiare prima della battuta di pesca le zone su cui poi andrò realmente a filare le mie lenz. Io in particolare utilizzo due cose è chiaro che possiamo studiarla nella cartografia del nostro strumento però non sempre ce l'abbiamo portata soprattutto abbiamo anche magari un monitor di dimensioni ridotte. I due aiuti che ci vengono incontro in questo caso sono le cartografie CMAP nel sito della CMAP e l'applicazione Lawrence. Andiamo un po' a vedere di che cosa si tratta. Entriamo subito in internet, digitiamo CMAP e accediamo al sito ufficiale della CMAP. Partiamo subito dal menu a tendine in alto a sinistra. Vedete che c'è una zona shop, se cliccate qua potete subito comprare le cartografie per cui basterà selezionare la vostra locazione diciamo e scaricherete la cartografia della zona a cui siete interessati. Successivamente troviamo carte nautiche, qui vi viene specificato la differenza tra le varie carte cioè le Discover, le Reveal, adesso ci sono anche le Discover X e Reveal X e anche qua poi trovate tutta una lista di prodotti per poterli studiare, vedere le specifiche ed andarli ad acquistare. Quello che maggiormente interessa a noi è la chart explorer. Cliccando su questa voce vi si apre la cartografia mondiale CMAP. Se andiamo a zoomare nella nostra zona, adesso prendiamo una zona a caso, potete vedere che la cartografia è molto molto dettagliata e soprattutto abbiamo già abilitate le battimetrie ad alta risoluzione. Questo vi danno subito una maniera netta ed intuitiva di come è l'orografia del terreno, soprattutto del fondale del mare che è quello che interessa a noi. Ci spostiamo su una secca qualsiasi, se andate a zoomare ancora potete vedere che realmente è facile capire un po' come sono disposte, dove sono disposte le nostre secche ma soprattutto che conformità hanno per cui in una secca troveremo dei lati più ripidi e scoscesi con magari degli strapiombi, mentre sull'altro lato della secca le battimetrie sono più distanziate e il fondale scenderà in maniera più graduale. Questo vi fa capire subito che ci saranno delle zone migliori per ad esempio trainare, dove non incapperemo magari in secca strapiombo o comunque in ostacoli che ci mettono in difficoltà nella nostra azione di pesca, mentre troviamo tantissime zone dove ci sono delle vere e proprie secche, strapiombi, dislivelli veramente importanti e queste sono altre zone di pesca che magari ci tornano utili ad esempio la pesca alle ricciole. Per cui è veramente molto intuitivo scoprire un po' tutte le secche prima di approcciarci alla pesca vera e propria. Ci spostiamo nella zona in Croazia, in una delle zone che io tra l'altro ogni tanto ci vado a pescare, questa è Orsera, anche qua potete vedere una moltitudine di secche e appunto vedete che ci sono delle secche isolate in mezzo al mare, qualcuna ha veramente degli strapiombi importanti diciamo, tipo in questo caso. Vedete le battimetriche sono molto ravvicinate, la secca parte da 15 metri e nel giro di poco scende giù subito a 30. Tenete conto che queste sono tutte zone che ancora non hanno fondali particolarmente importanti. Ci fa capire anche le dimensioni delle secche, se vediamo questa secca qui è veramente molto ma molto estesa, per cui anche qui riuscite già a farvi un'idea se la vostra battuta in base alle ore e al tempo che avete a disposizione, se è meglio approcciarsi a un tipo di secca più piccolina o magari fare più secche di dimensioni contenute o se avete molto tempo da dedicare potete scansionare veramente zone vaste e sapere già appunto come approcciarvi al meglio alla vostra tipologia o tecnica di pesca che deciderete di affrontare in quella determinata giornata. Cosa ancora molto ma molto più intuitiva sono le ombreggiature dei rilievi. Basta che cliccate in questo pulsante, il sito qua ci metterà un attimino a caricare perché il dettaglio è un po più più ricco. Questa tipologia di visuale, questa colorazione diversa, vi fa subito capire dove sono le zone piatte del fondale e dove appunto ci sono tutti gli strappiombi. Adesso ci spostiamo in un'altra zona. Qui siamo in Sardegna e come potete notare ci sono dei veri e propri canyon tutti da scoprire e da scansionare. Avete sicuramente capito che questo è veramente molto intuitivo sia per come approcciarci appunto alla giornata di pesca sia se utilizziamo tecnologie su fondali più bassi come le visioni side, laterali, abbiamo già in mente dove poter andare a scansionare e questo ci velocizza un po' tutte le operazioni perché sappiamo che il mare è molto vasto e soprattutto a scansionare ci vuole anche molto molto tempo. Ricordatevi inoltre che il sito della Simap vi fornisce in alto sempre sulla destra una sezione supporto, una sezione per aggiornare le carte nautiche e troverete anche le news del sito e una sezione per cercare i rivenditori più vicini alla vostra zona. Tutte queste cose a cui vi ho appena accennato sono gratuite, sono a disposizione di tutti, basta avere un collegamento di internet e entrare sul sito ufficiale Simap. L'altro strumento che ci viene in aiuto sicuramente è l'applicazione Lawrence. Andiamo adesso un po' a vedere come è strutturata. L'applicazione è gratuita ovviamente per usufruire di tutte le potenzialità di questa applicazione dovreste pagare l'abbonamento perché vi si sbloccano tutte le funzionalità però vi ricordo che c'è un periodo di 14 giorni di prova gratuito per cui potete selezionare periodo di prova premium gratuito, vi fate i vostri 14 giorni e dopodiché basterà entrare nel vostro store e disdire l'abbonamento e non avrete nessun costo almeno per provare le potenzialità di questa applicazione poi starete voi a decidere se la spesa è necessaria, se vi può servire ad essere utile oppure no. A me risulta utilissima per un semplice motivo. Qua oltre a visualizzare le secche e le battimetrie possiamo anche programmare i nostri viaggi di crociera per cui è molto utile per misurare distanze, rilevamenti, andare a creare tutte le nostre rotte. Sappiamo già prima di affrontare viaggi o battute di pesca tutto quello un po' che ci aspetterà in queste giornate. Andiamo allora a vedere un po' com'è strutturata questa applicazione. Una volta caricata a monitor abbiamo quattro icone, la prima in alto è quella delle impostazioni. Questa vi permette di impostare la vostra cartografia. Allora andiamo a zoomare un po' così vediamo anche i cambiamenti. Qui vedete che ci sono i miei waypoint. Entriamo sulle impostazioni. Qui abbiamo accesso alle regolazioni della cartografia. Quello che ci interessa subito è HRB che sono le battimetriche ad alta risoluzione per cui se clicchiamo sopra come nel caso del sito Simap. Possiamo notare che adesso abbiamo tutte le battimetrie delle nostre secche, dei nostri fondali in maniera dettagliata. Sotto trovate anche le mappe Genesis Social perché c'è la possibilità di scansionare e di creare le vostre battimetrie del fondale con la Genesis Live e se volete poi le potete caricare online. Avete una sezione che vi dice dove ci sono le aree marine protette. Rilievo ombreggiato. Anche qui se andiamo ad attivarla come nel caso che vi ho fatto vedere prima nel sito vi si aprono le ombreggiature a colori per cui veramente il massimo del dettaglio che può offrire la cartografia. Sotto il rilievo ombreggiato avete anche la visione satellitare sia del mare che della terra per cui veramente tutto tutto il massimo dettaglio che possiamo avere in terra e in mare. Sotto abbiamo altre impostazioni insomma per persona per personalizzare la nostra cartografia compreso anche la rotazione mappa per chi magari utilizza in barca in certe occasioni anche il tablet oppure il telefonino per cui essendo un'applicazione la potete utilizzare e potete posizionare il monitor in maniera verticale o orizzontale. La seconda icona in alto a destra vi permette di visualizzare il vento. Se lo attivate vi compare subito una scala laterale con delle tonalità che vi indica i nodi di vento. L'azzurro corrisponde a zero fino ad arrivare alle tonalità di rosso ad una velocità che corrisponde ai 70 nodi. Questo è molto intuitivo perché basta che zoomate nell'aria di vostro interesse e potete veramente vedere nel dettaglio come il vento si sta comportando in quel determinato momento e soprattutto potete scorrere anche nei giorni che verranno per vedere come evolverà la situazione meteo. Successivamente subito sotto avete l'allarme ancora qui sempre per chi utilizza l'app in mare in un dispositivo potete impostare appunto gli allarmi ancora e subito sotto avete il nord della cartografia per cui se siete ruotati basta che cliccate su quest'icona e riposizionerà il nord verso l'alto. Troviamo anche un menu a tendina. Qui vedete che c'è in sovraimpressione il mio account sempre la rotellina delle impostazioni. Avete una sezione con i miei dati dove trovate i vostri wait point, le tracce, le rotte e le mappe offline. C'è anche la possibilità di scaricare le mappe offline se non avete copertura internet in quello specifico momento. Vi da i luoghi, le marine diciamo di interesse nelle vicinanze. La posizione attuale per cui possiamo leggere le coordinate. Subito sotto troviamo i miei dispositivi e qui ci sono tutti i dispositivi che io ho interfacciato con la mia applicazione Lawrence perché l'applicazione Lawrence vi serve anche per registrare i vostri dispositivi, connetterli e soprattutto comandarli per cui possiamo utilizzare anche la funzione specchio per andare a vedere il nostro plotter direttamente sul monitor. Sotto le impostazioni relative al vostro account e tutte le altre diciamo gli altri settaggi che offre questa app. L'ultima cosa sicuramente la più importante per questa applicazione è la sezione home che vi riporta alla cartografia mentre la sezione pianifica che trovate in centro è appunto quella che vi permette di misurare le distanze. Se ci cliccate sopra è molto facile, vi posizionate dove vi interessa, aggiungete il punto, andremo in un altro punto e subito sotto ci comparirà la distanza di 66 miglia in questo caso per cui è veramente rapido e intuitivo soprattutto se dovete fare dei viaggi sia a vela sia di pesca potete veramente capire quanta strada dovete fare, quanto tempo ci mettete, quali saranno i consumi, è veramente molto utile per pianificare i vostri viaggi. Ovviamente trovate le informazioni base cioè in questo caso io ho cinque tracce, ho tutti gli wait point che sono 1425, se volete richiamare una traccia aprite la tendina, io in questo caso ho PT che sta per punta tagliamento, è una traccia mia di sicurezza in caso di nebbia per poter entrare uscire dal porto, basta che ci cliccate sopra e lui vi porterà alla traccia, potete sempre visualizzarla sulla vostra applicazione. Usciamo anche dalle tracce, altra ovviamente opzione importante è il crea rotta, qui con delle semplici pressioni possiamo sempre selezionare il punto di partenza, in questo caso vado a zoomare appena fuori dal porto, faccio seleziona e lui mi crea il punto di partenza e vado ad esempio a dare una destinazione che attraversa tra l'altro la terra, faccio seleziona e potete notare che root editor praticamente vi è già partita l'auto routing e lui in maniera automatica ha già calcolato una rotta sicura evitando tutti gli ostacoli per voi. Ovviamente poi la rotta potete salvarla, rinominarla come in una qualsiasi applicazione o plotter. Dopo averla salvata vi comparirà nel monitor, se andate a richiamarla sulla sezione rotte ci cliccate sopra vi dà la data di creazione e nel menu a tendina trovate tutte le informazioni utili ad esempio la distanza a una velocità media di 15 km e 4, sotto trovate la distanza totale in miglia e anche le coordinate tra i vari punti, la data di creazione, tutto insomma quello che vi è utile per una navigazione sicura. Queste sono le funzioni che di solito ogni pescatore che vada a pesca o che effetti un viaggio in crociera va ad utilizzare su un'applicazione. Spero che questo vi torni utile, dateci un occhio, sfruttate il periodo di prova e giocate il più possibile con l'applicazione perché sicuramente troverete molte cose interessanti. Ora che siamo arrivati al fine video vi do una chicca, tra le varie domande che mi ponete di solito è come cancellare i punti che vengono salvati nell'applicazione Lorenz. Mi spiego meglio, quando voi vi connettete la prima volta con il vostro plotter con le credenziali Lorenz, tutti i punti che avete sul plotter vengono salvati. Ogni volta che poi andate a risincronizzare il vostro strumento, se avete fatto le modifiche tra una volta e l'altra ed avete cancellato dei punti non vi verranno sincronizzati i punti modificati, ma ogni volta andrete sempre a scaricare i punti che avete caricato la prima volta. Allora molti utenti sono in difficoltà per questa cosa. Se volete cancellare i vostri punti dal cloud, quelli salvati, c'è una procedura nel quale poi magari vi lasceremo anche un link in sovraimpressione in maniera che ci potete accedere, tradurla in italiano. Adesso io ve la faccio vedere, serve per entrare nei vostri punti nell'applicazione Lorenz ed andare a selezionare se li volete cancellare. Vediamo come si fa. Allora entriamo sulla nostra applicazione Lorenz, apriamo il menu a tendina e ci portiamo sui nostri luoghi salvati. Vi si apre la lista dei vostri wait point, in alto a destra trovate la voce gestisci, andiamo a cliccarci sopra. Si apre un altro menu subito sotto e qua selezioniamo la voce filtri. Ora l'applicazione vi chiede che cosa volete fare e noi scorriamo sull'applicazione e sulla voce altro andate a selezionare la voce cancellare solo. Ora in alto a destra premete la voce esci e nuovamente gestisci. In questo momento siamo sulla lista dei nostri wait point e ciò che andremo a selezionare verrà cancellato dal vostro cloud. Per cui selezioniamo la voce modifica in alto a sinistra e adesso potete andare a spuntare tutti gli wait point che volete cancellare. Io in questo caso potete selezionarli o uno ad uno per cancellarne qualcuno o in questo caso io seleziono tutto, premo elimina definitivamente, mi chiede se sono sicuro di voler eliminare i miei luoghi, faccio elimina e la lista dei wait point sarà svuotata. A questo punto premiamo esci. Ora premendo la voce esci torneremo nella cartografia, i vostri punti ci sono ancora perché voi non li avete cancellati nell'applicazione ma li avete cancellati nel cloud per cui la prossima volta che io andrò a sincronizzare lo strumento non troverò nulla. Se li volete cancellare anche dalla cartografia andrete sempre nella lista wait point, li eliminerete tutti e così la cartografia sarà pulita. Bene bellissimi amici anche per questa sera è tutto, spero che questi consigli vi possano essere d'aiuto in futuro per le vostre uscite di pesca. Anche per questa sera è tutto, lasciate un like che a noi fa sempre piacere, iscrivetevi, iscrivetevi e iscrivetevi al nostro canale che ne abbiamo veramente bisogno. Attivate la campanella per restare sempre aggiornati sulle notifiche dei video futuri e come sempre allammate i like.